Dopo sei anni di stop torna una manifestazione importante per quanto riguarda la musica a Teramo aspettando il primo maggio che si svolgerà il 30 di aprile, insomma l'associazione Big Match ovviamente in primo piano su questo evento che torna finalmente in città. Finalmente lo rilanciamo perché è sempre stato un fiore all'occhiello di Big Match e quest'anno appunto vogliamo rilanciarlo in grande e ovviamente sempre con il sostegno del comune di Teramo della fondazione Tercas, quest'anno abbiamo coinvolto anche i sindacati, ci tengo a dirlo, CGL e CISL in quanto abbiamo anche voluto dare spazio a quelle che sono le problematiche sul lavoro quindi ci saranno degli interventi da parte dei sindacati. Sarà una giornata all'insegna del divertimento ma anche appunto del sociale e si farà appunto al parco fluviale a De Carolis, sarà un evento gratuito e vedrà appunto tanti personaggi noti abbiamo come punta i Comacose, poi ci sarà Fulminacci, Filippo Graziani, Setac e la riunione dei Resca e inoltre avremo anche una DJ per chiudere la serata, quindi sarà una giornata che andrà dalle 18 fino a Nottefonda quindi all'insegna del divertimento ma anche penseremo a quelle che sono le problematiche sociali del lavoro e quindi cercheremo anche di coinvolgere i giovani in questi argomenti quindi questa è la nostra proposta ed è quello che porteremo avanti quest'anno e speriamo che sia di nuovo la prima edizione di tante altre perché abbiamo intenzione di riprenderla e di darle una nuova vita.